Siamo a Mammo, la paese che si conferma ancora una volta di tradizioni, ma soprattutto aspetta il Santo Natale, ma paese ancora una volta di maestri d'artigiano, ancora un presepe artigianale realizzato in questi ultimi giorni. Per il secondo anno consecutivo l'artista locale Damiano Panetta presenta questo presepe artistico. Siamo con il vice sindaco Stefano Raschellà, Mammola, che è pronto per le festività natalizie. Ancora una volta Damiano Panetta che realizza delle straordinarie opere. Sì, con Damiano Panetta e con i presepi artistici qui nella sua bottega di Via Viola inauguriamo un po' il percorso artistico, ma anche il periodo natalizio qui a Mammola. Una bottega artigianale, quella dei presepi artistici del maestro Damiano Panetta, che rappresenta un momento di crescita non solo culturale, ma anche del patrimonio tecnico e artistico della nostra comunità. Vi è grande entusiasmo da parte dell'amministrazione comunale di Mammola, perché vuole inserire la bottega di Damiano Panetta all'interno, come dire, di un circuito e di una filiera che garantisca un percorso artistico e di conoscenza di quello che è il centro storico, il borgo antico di Mammola. Ricordiamo che la bottega si trova in Via Viola, siamo alle spalle della Chiesa Madre, uno dei luoghi più antichi, uno dei luoghi primi ad essere abitati, così dicono gli storici. Per cui dalla piazza centrale, dall'Argomagenza e anche dalla piazza Ferrari, il visitatore, i tanti che vengono qui a Mammola, possono in questo periodo natalizio, ma anche oltre, attraversare il centro storico, approfittando anche della nuova inaugurata da poco scalinata di Gellario, che rappresenta una continuità con il centro storico. Un applauso a Damiano per l'impegno che mette nel realizzare queste opere, che sono veramente delle opere d'arte, quindi ci fanno entrare naturalmente nell'atmosfera di Natale con gli eventi che le amministrazioni e le associazioni stanno preparando per le prossime feste. Quindi un applauso personale da tutta l'amministrazione per la bravura, che ogni anno ci propone queste novità, questi presepi artistici, con delle innovazioni particolari. Quindi ancora una volta un buono, un complemento da parte di tutti noi. Siamo molto contenti di essere qui oggi ad inaugurare, come dire, l'apertura dei presepi del caro amico Damiano Panetta, che stanno riscuotendo grande successo, diciamo, quotidianamente. Ci sono sia cittadini sia, come dire, forestieri che vengono a visitare e a rendere omaggio all'arte di Damiano. La settimana prossima, nei giorni 19 e 20, saremo presenti alla festa delle capanne organizzata, come ogni anno, dall'associazione Caritas parrocchiale. È un'iniziativa, come dire, che è sempre volta alla raccolta di fondi, che poi verranno erogati sotto forma di aiuti alle famiglie bisognose della comunità. È un'occasione anche per stare insieme e degustare i prodotti tipici, sia dolci che salato mammolesi. Ecco, siamo con l'artista locale Damiano Panetta, che ha realizzato queste straordinarie opere, presepe artistico, anche per il Natale 2015. Quest'anno la vera novità è questo presepe dentro un televisore, anni 60, anni 70. Ma quanto lavoro c'è dentro tutte queste opere, Damiano? Molto, molto lavoro e molta pazienza, perché, vedi, fare le cose sembra facile, però piano piano azzeccare, cercare di migliorare sempre per le figure, l'immagine. Però la soddisfazione all'ultimo comunque ripaga tutto. Come puoi vedere, il televisore è una novità, diciamo, per Mammola, per la zona nostra. Poi ho fatto pure quest'altro, l'ultimo lavoro, pure questo qua. Dunque, pure questo, tutto sempre, secondo le regole, diciamo, tutta roba reciclata, tutta fatta a mano, senza... Compriamo soltanto le statuine, ma il tutto però è tutto artigianale. E come puoi vedere abbiamo pure, ha aumentato, diciamo, il presepe già esistente, il grande, vedi, c'è con una cascata, con l'acqua che circola, e il laghetto per... Cerchiamo di migliorare l'anno per anno per cercare di portare avanti questa tradizione. Damiano, dobbiamo dire che ci sono tanti visitatori, ma questo succede anche dall'estate, perché quest'anno ci sono delle opere nuove, però qui la mostra dei presepi è aperta tutto l'anno. Sì, in effetti, tutta l'estate è stato aperto qua, saltuariamente, non tutti i giorni, però se la gente viene l'estate qua, mamma, può sempre bussare, le volte che aprirò sempre per le persone vengono a vederle. Infatti, quest'anno parecchi turisti sono venuti a vedere i presepi, qualcuno ha comprato pure dei pezzi, perché qualcuno pure lo vendo per comprare dei pezzi per tirare avanti quest'altro grande qua, però cerchiamo di tenerlo sempre aperto, a qualcuno che vuole venire può sempre bussare qua e gli sarà aperto.